Buonasera e benvenuti alle previsioni medie. Avete notato che in questo periodo il tempo è particolarmente incerto e imprevedibile, tanto che si passa da caldafoso, ben al di sopra della media, a piogge per sistema. A volte due gocce d'acqua, altre volte vere e proprie tempeste tropicali tipiche della foresta amazzonica, anche se vi trovate nella zona di busto arsizio. Piogge seguite poi da un'alta pressione che porterà di nuovo il caldo e il bel tempo su tutto lo stivare. E quindi è difficile prevedere il tempo. Insomma, le certezze sono poche. Tranne che piove soltanto quando io lavo la macchina o che se esco di casa vestito pesante inizio a sudare come un maratoneta. E allora per difenderci dai cambiamenti dobbiamo attrezzarci con un abbigliamento adeguato a strati o a cipolla, come dicono i vecchi. Anche perché se c'è una cosa che abbiamo capito è che non si capisce niente, colonnello! E prima faceva caldo e poi fa freddo! Io dovevo fare il cambio di stagione tre mesi fa, l'ho fatto adesso! Lo stiamo distruggendo questo clima, è colpa nostra, colonnello! Anzi, è colpa mia! Smettiamola di fare le previsioni meteo e prevediamo soltanto la pioggia della mia disperazione! Ma dai, che poi non è tutto così incerto. Colonnello, ma che stai dicendo? Ma chi è mia madre? C'ha ragione, colonnello, chi dovevo scusare? Anzi, rafforziamo il sistema immunitario. 20 miliardi di probiotico. Colonnello, vuole essere il mio probiotico.